Al Magarotto studiano insieme ragazzi sordi e ragazzi udenti. Sì, è proprio la peculiarità, il fatto che nelle classi non esiste l'insegnante di sostegno, ma l'insegnante della materia curricolare deve anche essere specializzato sul sostegno e quindi deve gestire all'interno della classe una didattica che si adatti sia ai ragazzi udenti che ai ragazzi sordi. E' molto importante tenere conto di quello che è il feedback dei ragazzi, è importante con tutti i ragazzi in tutte le scuole, ma nel nostro caso in particolare e soprattutto con i ragazzi sordi è necessario, oltre ad adottare metodologie particolari, essere sicuri di quello che è arrivato al ragazzo, di quello che è il ritorno e quindi questa interazione deve essere continua, altrimenti si rischia di aver vanificato il lavoro. Quindi questa è una cosa fondamentale. Un'altra cosa molto importante è che includendo ragazzi sordi e udenti nella stessa classe, credo che proprio l'inclusione e l'integrazione sia all'apice, sia proprio, secondo me, l'esempio perfetto di come dovrebbe essere l'integrazione dei ragazzi sordi nella nostra società, perché consentiamo ai rossi ragazzi udenti di fare un'esperienza insieme e di capire qual è il mondo dei ragazzi sordi. E dall'altro canto facciamo già un piccolo passo per portare i ragazzi sordi ad interagire con i ragazzi udenti che poi troveranno nella società.